Che hai visto Astorre da sta parte? Astorre? No. Stava qua? Andò sta? Allora, quando io ti dico? Hai visto Astorre da sta parte? Allora. Mi ha scappato che lo posso, se non spararlo. Andò sta? Vai sui cartelli! Vai con i cartelli, tagli! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Astorre, avete visto Bruno, no? Schiappato! Scigalare di zero! Ah, tu bene, dai! Lo posso? Buon giorno! Buon giorno! Ma dai, un manipolo, dai! Un giorno non ci arriviamo! Bruno, via fuori, Bruno! Onestà! Via fuori che è meglio! Ha visto Astorre? Ha visto? Bruno Astorre! Non l'ho visto! lo vado cercando, è scappato ci sarà c'è c'è ma come vede a me scappa se inguatta e che ne so valla chieda a lui allora Bruno tu stai? no no oh fammi scusa eh tiè guarda tiè beccati questo primo piano si ma a me dovete trovare la torre si è andato? no si è nascosto no sta lì appena mi ha visto è andato via e vabbè io lo seguo dal cerchiere